È stata tra i primi nell'area nord di Napoli ad aderire al progetto di Liberi e Uguali. La deputata auscente Michela Rostan è adesso ricandidata come capolista al collegio plurinominale Campania 1 per il movimento di Pietro Grasso. E proprio con il presidente del Senato, Rostan ha aperto a Napoli la campagna elettorale. L'esponente di Leu spiega di voler proseguire nel lavoro intrapreso in questi cinque anni. Sono stati cinque anni particolarmente intensi durante i quali abbiamo provato a dare risposte concrete in modo particolare per il nostro territorio a partire dalla questione terra dei fuochi fino ad arrivare a tutte le tematiche connesse alla sicurezza e manutenzione dei nostri paesi. L'auspicio e la speranza appunto è quella di poter continuare un grande lavoro già intrapreso cinque anni fa. Tra i temi affrontati da Rostan soprattutto negli ultimi mesi di quest'ultima legislatura quello del campo Rom di Giuliano per cui ha ricevuto anche pesanti attacchi da parte di esponenti di Forza Italia ed Estrema Destra. Non possiamo pensare di risolvere questi problemi se non fondiamo il nostro lavoro su due presidi cardine anche del nostro programma del programma di Liberi Uguali, vale a dire la solidarietà, l'accoglienza e l'integrazione. Io credo che risolvere questo dramma sociale che è una vera e propria bomba sociale ormai che è presente in questo paese significa dare poi delle risposte in termini ambientali ma anche e soprattutto di sicurezza per i cittadini del nostro paese. Grascio è noto per la lotta alla criminalità organizzata e sul tema Rostan ritiene che sino ad oggi è stato fatto molto ma bisogna puntare ancora di più su associazioni e realtà anti-camorra. È stato fatto tanto grazie soprattutto alla presenza di associazioni, comitati civici che quotidianamente con il proprio entusiasmo e il proprio lavoro hanno risvegliato una speranza in queste terre così abbandonate. Allora credo che noi dovremmo anche nei prossimi anni e anche in queste settimane di campagna elettorale far comprendere un messaggio chiaro che il nostro compito, compito della politica deve essere proprio quello di sostenere queste realtà, di metterle in rete ma soprattutto di fornire loro tutti gli strumenti di cui hanno bisogno. Infine agli appelli al cosiddetto voto utile per evitare che il voto a partiti minori come ad esempio liberi e uguali che secondo molti consentono la vittoria di centrodestra e 5 stelle a scapito del centrosinistra la candidata dice che il voto deve essere esercitato secondo coscienza. Credo che in un paese nel quale il partito principale, proprio quello dell'astenzione, il voto debba tornare ad essere un diritto e un dovere di tutti ma soprattutto debba essere esercitato secondo coscienza. Il voto deve identificare quelli che sono i valori e gli ideali di una persona. Non esiste nessun voto utile verso un partito che abbia una percentuale più alta o più bassa. esiste soltanto il voto dato in coscienza e in piena espressione di libertà.